Il 25 giugno a Palazzo Lascaris è seduta a congiunta delle commissioni bilancio Presidente Angelo Burzi, Ambiente Presidente Fabrizio Comba e Attività Produttive Presidente Gianluca Vignale, per le audizioni con i rappresentanti sindacali e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Piante Legno Ambiente Ipla. Sono emerse preoccupazioni per la tutela occupazionale, oltre alla necessità di ricapitalizzazione da parte di Regione, Provincia e Città di Torino.